presentato un libro che prende spunto dall'incontro tra Papa Francesco ed un gruppo di bambini provenienti da tutte le parti del mondo. La scheda. Il Papa prega ogni giorno per la Cina davanti ad un'immagine della Madonna di Sheshan e tra i suoi santi preferiti oltre a Ignazio di Loyola e Francesco d'Assisi c'è anche la giovane Teresa di Lisieux. Lo ha confidato egli stesso ad una quindicina di bambini di tutto il mondo incontrati nello studio dell'aula da Paolo VI come racconta un articolo dell'osservatore romano. Rappresentavano gli studenti tra gli 8 e i 13 anni di vari istituti scolastici tenuti dai gesuiti in diverse parti del mondo che su iniziativa del gesuita Antonio Spadaro hanno formulato una serie di domande presentate lo scorso agosto dal direttore della civiltà cattolica al pontefice. Ne è nato il libro pubblicato in varie lingue che è stato presentato nel corso di un incontro segnato dalla spontaneità e dall'innocenza dei bambini. Una vera e propria festa protrattasi per oltre un'ora alla quale hanno partecipato tra gli altri il cardinale Luis Antonio Tagl, presidente di Caritas Internationalis, e alcuni genitori ed educatori dei piccoli protagonisti. Accompagnato dal prefetto della segreteria per la comunicazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò, il Papa al suo ingresso è stato accolto da un lungo applauso dei presenti e i bambini che erano seduti a terra si sono alzati per andare ad abbracciarlo. Francesco in spagnolo ha chiarito Voglio dire una cosa ai bambini e agli adulti. Le domande più difficili che ho ricevuto non sono state fatte dai professori agli esami, ma sono le domande dei bambini, perché rispondere alle domande di un bambino ti mette in difficoltà, perché il bambino ha qualcosa che guarda all'essenziale e fa le domande dirette, e ciò ha un effetto di maturazione interiore su chi ascolta la domanda. Così i bambini fanno maturare gli adulti con le loro domande.